Allora, siamo sempre nel capitolo dal titolo Origine delle Credenze Totemiche, ci stiamo avvicinando però alla conclusione e in questo paragrafo dovremo, come detto nel capitolo precedente, dovremo vedere come si manifesta poi questo principio religioso, come si manifesta quest'Italia del Sacro direttamente nell'esperienza degli aborigeni australiani. Durkheim inizia offrendo al lettore la visione di un tipo di vita, che è quello tribale, anche nomade, che conducono gli aborigeni australiani, che si divide sostanzialmente in due fasi. Una fase in cui scorre la vita ordinaria, che è soprattutto dedicata, alle faccende economiche, la caccia, la pesca, gli spostamenti, eccetera. In questa fase la tribù si trova atomizzata, le famiglie sono disperse e ognuno attende quindi alle proprie faccende. C'è poi però un'altra fase in cui c'è una dimensione di collettività invece, cioè ci sono delle riunioni periodiche e una di queste fasi si chiama corrobori. Il corrobori sarebbe una cerimonia religiosa. Il Durkheim ci avverte che il corrobori di norma si distingue dalle cerimonie propriamente religiose perché è aperto alle donne e ai non iniziati, quindi si possono trovare anche bambini in queste cerimonie. Tuttavia sottolinea il fatto che sono questi due tipi di manifestazioni, cioè le cerimonie religiose e il corrobori, sono strettamente apparentate. Quindi si può parlare del corrobori nello stesso modo in cui si parla di una manifestazione religiosa, ma perché? Perché appunto dà accesso e crea quello spazio sacro che è all'origine nel pensiero religioso secondo Durkheim. In questa seconda fase soltanto il fatto che gli individui si trovano in agglomerati da di loro si traduce in una grande eccitazione e quindi in una eccezionale potenza, come dice Durkheim. Che cosa è accaduto secondo Durkheim? Cosa c'è alla base dei canti, delle danze tribali? Alla base dei canti e delle danze tribali c'è il tentativo di dare un ordine, una modalità ordinata che gli individui possano conoscere che appunto la danza, un certo tipo di musica, un certo tipo di ritmo. È ovvio che esprimendo stati d'animo della collettività, cioè che la possibilità di esprimere stati d'animo della collettività possa avvenire in un contesto collettivo soltanto attraverso strumenti condivisi dagli aborigini stessi, dagli autoctoni stessi, poiché appunto altrimenti ognuno andrebbe per conto suo. Ma questo va in senso contrario però alla dimensione appunto della collettività, che queste stesse musiche o canti hanno intenzione appunto di celebrare e anche di sollecitare. E quindi ecco che abbiamo delle situazioni quasi di parossismo, danze e canti portate all'estremo, strumenti che servono per creare un rumore che si aggiunge già al frastuono di suo. Quindi c'è tutta una dimensione che fa uscire l'individuo dall'ordinario. Per chi volesse approfondire, faccio presente che l'Urkheim si sofferma in una dettagliata descrizione dei particolari di queste cerimonie. E non solo questo, ma anche per chi fosse interessato si può andare a vedere dei cerimoniali come quello del Corrobori anche in video presenti su Youtube. Quindi uno si può fare un'idea di che tipo di cerimoniali siano. Ma a noi adesso interessano le conclusioni perché sennò questa serie non finisce veramente più. E allora la questione è questa. Durkheim ricava da tutto questo quest'idea. Come potrebbe mai un essere umano, diciamo, un essere umano poi nel particolare stato primitivo in cui mette gli aborigini australiani Durkheim, come potrebbe non avvertire la presenza di due mondi, due mondi che sono radicalmente distanti. L'uno è quello in cui lo stesso individuo si trova affaccendato in cose ordinarie che non hanno nulla di particolarmente rilevante, non hanno nulla di emotivamente coinvolgente, non hanno nulla di effervescente appunto. Da momenti invece in cui questa effervescenza esplode, si manifesta in queste manifestazioni, appunto in questi cerimoniali, e qui appunto l'individuo avverte questa dualità di stati del suo proprio stato, ma anche naturalmente del mondo intorno a sé che vede improvvisamente trasformarsi. Ed è questo appunto, ed è da qui, ed è da questi ambienti sociali che producono questa forte intensità psichica, emotiva, che nasce, secondo Durkheim, l'idea religiosa. È ovvio che anche nei momenti profani, cioè nei momenti ordinari che abbiamo detto, dedicate a faccende della quotidianità, esistano delle tabuizzazioni, cioè continuino ad esistere delle tabuizzazioni, quindi continua ad esistere in un certo senso la sfera del sacro. Per esempio si mantengono i tabu, quindi anche i tabu sulla specie che funge da totem, quindi anche nel periodo della caccia, della pesca, della raccolta, in quel periodo di atomizzazione della tribù a cui abbiamo fatto riferimento prima, l'indigeno avrà le sue interdizioni che hanno a che fare con la sfera del sacro. Questo è palese, dice Durkheim, tuttavia i due momenti si possono distinguere appunto per la loro diversità, per la loro forza, il periodo appunto delle faccende ordinarie è un periodo monotono, è un periodo che è langue, che passa via senza lasciare segno, il periodo invece delle cerimonie religiose è un periodo di grande eccitazione generale. e questo è il punto. Quindi la vita religiosa dell'australiano passa da fasi di relativa monotonia a fasi di iper-eccitazione seguendo i ritmi appunto della vita sociale. Detto questo possiamo di nuovo rintrodurre il tema della scelta delle specie totemiche tra gli animali e le piante e il ruolo che occupa in tutto questo l'emblema. Lo riprende quindi qui Durkheim un discorso che ha già affrontato qualche capitolo passato ma adesso lo rilegge irrobustendolo con una prospettiva teorica che piano piano si fa sempre più chiara. Allora possiamo ricapitolare velocemente il ragionamento che fa Durkheim. Durkheim dice noi non possiamo cercare quel principio del sacro, quel principio religioso nelle cose che effettivamente assurgono poi a simboli di questa sacralità. E queste cose sappiamo che sono tre cose. Il nome dell'emblema totemico, del totem, e questo nome è ricavato da una specie, quindi c'è un nome, c'è una specie che in genere appunto è tratta al mondo animale e vegetale, poi vedremo anche perché. E in ultima analisi poi c'è l'emblema. L'emblema è l'oggetto più caratteristicamente sacro che si ha a disposizione diciamo nella visione del mondo appunto aborigena. Diciamo subito che questo emblema, come già detto in precedenza, si compone soltanto di alcuni segni convenzionali, spesso sono due linee, tre linee, un cerchio, insomma, segni molto semplici, molto facilmente riproducibili. Questa è una loro caratteristica ed è molto importante come caratteristica. e questi segni si vanno a rappresentare su oggetti della più quotidiana banalità, insomma, pezzi di legno, pietre, eccetera, eccetera. Ma quello che importa appunto è ricordare questa convenzionalità e questa semplice artificiosità appunto dell'emblema. Perché l'emblema teoricamente dovrebbe rappresentare l'animale totemico o appunto la pianta che funge da eponimo per il clan in questione. Invece in realtà quel simbolo secondo Durkheim non è altro che una rappresentazione molto comoda, molto veloce che si può moltiplicare con molta facilità e che non è altro che il sentimento di adorazione, rispetto, dimone, quel sentimento complesso che l'uomo vive nei confronti del suo gruppo sociale da cui pensa di essere determinato, da cui è determinato. Non soltanto nel pensiero della riflessione durkheimiana non è che si pensa di essere determinato, si è determinati effettivamente, i fatti sociali sono cose, ricordiamo sempre. Quindi l'emblema è certamente il simbolo più importante perché appunto non è la pietra stessa che possiede un carattere sacro. Questo carattere sacro discende da questo sentimento che si prova appunto in queste circostanze cerimoniali e che determina quella distinzione al sacro e profano che abbiamo visto prima. Quindi serve un oggetto semplice, infinitamente replicabile, quindi un disegno, uno stilema qualsiasi che possa essere replicato per ogni dove. Durkheim si sofferma a descriverci in modo molto particolarizzato il fatto che durante questi cerimoniali l'individuo ha sempre sotto gli occhi questo simbolo. Cioè dove si gira si gira trova questo simbolo rappresentato un po' dappertutto, nei corpi delle persone, nel suo stesso corpo, in oggetti come pietre, come rocce, come alberi. Cioè praticamente dove si gira trova questo emblema che appunto non è altro che la potenza della società che viene ipostatizzata ad un primo livello, appunto al livello dell'emblema. Ma questo emblema appunto ha bisogno di un nome, perché poi l'emblema, come sappiamo, dà il nome, diventa l'eponimo, quindi dà il nome al clan. E allora dove si va a scegliere la serie di nomi? Cioè dov'è che troviamo una serie di nomi che siano l'uno distanti, l'uno diverso dall'altro, ma allo stesso tempo facciano parte della stessa famiglia? Che cosa c'è di meglio che lo spettacolo della varietà delle specie vegetali e animali per questa scelta? Che da questo punto di vista non è molto distante il discorso che fa L'Avi-Strauss nel totemismo oggi, quando appunto L'Avi-Strauss, però partendo da un'altra impostazione che non è minimamente riconducibile a una tematica di tipo religioso, ma anche L'Avi-Strauss dice che le specie animali e vegetali possono fungere molto bene da sistema di classificazione, quindi non che esse stesse vengano classificate, ma che quella distinzione naturale che c'è tra le specie possa servire come mediazione per appunto classificare un altro ordine di cose che appunto in questo caso è naturalmente la distinzione tra ciò che è sacro e ciò che è profano, quindi dall'emblema al nome dell'emblema che è una specie, alla specie stessa naturalmente e qui abbiamo appunto quel carattere contagioso del sacro di cui parla Durkheim, per cui nell'emblema ipostatizziamo questo sentimento di venerazione per la società, all'emblema diamo un nome, il nome serve anche da nome per il clan e questo nome è il nome di una specie, quindi automaticamente questo nome trasmette il suo carattere sacro anche alla specie che poi diventa appunto la specie totemica del clan in questione. A questo punto, se continuiamo diciamo di deduzione in deduzione, cosa arriviamo? Arriviamo a questo che le specie che vengono appunto utilizzate come esseri totemici a loro volta interagiscono con il mondo naturale e le cose, gli oggetti viventi e non, insomma gli enti viventi e non di questo mondo naturale con cui vengono a contatto le specie stesse a loro volta verranno sacralizzati, quindi è così che si crea quella mappatura diciamo generale della realtà in queste due grandi dimensioni, appunto la dimensione del sacro e la dimensione del profano, che tra l'altro appunto qualche capitolo addietro per chi ha avuto la pazienza di seguire questi video, Durkheim diciamo sottolineava come prova del fatto che il totemismo è anche una cosmologia, cioè offre anche una visione del mondo. Quindi l'emblema dicevamo, l'emblema è la cosa più semplice, l'emblema è la cosa su cui il carattere sacro si può diciamo andare ad appuntare in modo più rapido possibile e facilmente replicabile e qui Durkheim tiene a sottolineare il fatto che anche da noi questa cosa è visibile, per esempio quando appunto un soldato muore per la sua bandiera, possiamo pensare che un soldato muoia per un pezzo di stoffa colorato, ovviamente no, quindi muore per l'emblema, cioè muore per qualcosa che sta per qualcos'altro esattamente come l'emblema che è all'origine appunto delle credenze totemiche. Potremmo dire, se non siamo blasfemi naturalmente, che la stessa cosa, ma questa è una idea che poi i sociologi ci hanno avuto insomma anche spesso, quindi non è nemmeno una cosa troppo buttata lì, diciamo, ma che la stessa cosa avviene per esempio nei gruppi di calcio, tra gli ultras, un ultras che difende la propria bandiera, ho sentito io stesso racconti di questo tipo, racconti di pro di ultras, che difendono ad ogni costo la loro bandiera da avversari ultras o da forze dell'ordine, ecco, che inseguono con i manganelli, ma quel tenere la bandiera appunto è evidentemente un fattore simbolico, cioè noi pensiamo di difendere la bandiera, ma stiamo difendendo qualcos'altro, in questo caso è un'idea, ma sempre l'idea sociale è, perché anche il discorso, diciamo, della tifoseria, è un discorso che potrebbe essere risolto in una chiave euristica concettuale tipo quella che ci offre Durkheim per andare a vedere le origini del fenomeno religioso. Del resto, l'emblema non serve soltanto in un ipotetico momento iniziale nel quale va a rappresentare questa forza della società, questa immagine della società, ma è anche lo strumento che serve a mantenere viva questa adorazione, quindi l'emblema totemico assolve a tutta una serie di funzioni, è facilmente individuabile, è facilmente ricordabile, è facilmente rappresentabile, e soprattutto è una tecnica proprio per mantenere viva la tradizione, questa tradizione, diciamo, religiosa, questa spaccatura del mondo in due aspetti sacro e profano. Le generazioni passano, dice Durkheim, ma l'emblema resta identico a se stesso, quindi è l'elemento permanente della vita sociale. A questo punto siamo in grado di comprendere tutto ciò che c'è di essenziale nelle credenze totemiche. Poiché la forza religiosa non è altro che la forza collettiva e anonima del clan, e poiché questa forza collettiva e anonima del clan, che sarebbe poi la società, è rappresentabile agli individui soltanto sotto la forma del totem, l'emblema totemico risulta essere il corpo visibile del Dio. E quindi a lui che si onorano tributi, è per lui che si fanno sacrifici, è per lui che si celebrano rituali e via discorrendo. Ma il clan però, come sappiamo, come ogni specie di società naturalmente, può vivere e vive effettivamente soltanto nelle e mediante le coscienze individuali che lo compongono. Dunque la forza religiosa sembra inizialmente esterna agli individui, quindi appare come qualcosa di trascendente rispetto ad essi ma d'altra parte questa stessa forza però si può realizzare soltanto attraverso le coscienze individuali e dunque da un certo punto di vista la cogliamo come trascendente ma da un altro punto di vista invece gli individui la colgono come loro immanente. Quindi è una forza che gli australiani perché stiamo parlando di questo ma per Durkheim alla base di ogni fenomeno religioso perciò possiamo parlare di umanità in generale per noi questo è scorretto questo modo di ragionare ma noi stiamo raccontando Durkheim quindi che cosa sentono gli individui sentono questa forza che è operante dentro di loro ed è così quindi che gli individui hanno creduto di potersi attribuire una parte di quella sacralità che riconoscevano nell'emblema che appunto a loro volta è emblema del gruppo sociale ecco quindi come l'uomo abbia acquisito in parte almeno quel carattere sacro che deriva dall'emblema totemico ugualmente si può dire che quella sacralità che diciamo il cui carattere contagioso abbiamo più volte sottolineato poi si comunica appunto dall'emblema anche alle specie appunto animali che danno il nome al gruppo totemico ed ecco così appunto crearsi quella costellazione di esseri quindi quella grande opera diciamo tassonomica appunto che è la ripartizione almeno in due specie di cose sacre e profane che è la ripartizione che è la ripartizione